ciao giovanni oggi ti parlo di una iniziativa bellissima un progetto che ha a che fare con una rota che adesso ci spiega linda brindisi l'artista che qui con me ciao linda ciao a tutti ci spieghi che cos'è questa rota e qui con me c'è anche oltre linda maura avagliati che è la dirigente dell'istituto cadorna adesso vi spiego cos'è tutta questa storia allora la rota innanzitutto è una grande pittura collettiva vero che si fa a terra su dei supporti circolari di carta che ho progettato ormai da più di vent'anni che porto in giro nei musei e anche nelle piazze faccio dipingere collaborativamente chiunque quindi tutte le fasce d'età ecco appunto dai bambini piccoli alle mamme le nonne e papà tutti insieme si mettono attorno a questo grande cerchio di carta che tu hai ritagliato e li fai dipingere con che materiali dipingono si usano dei colori naturali a tossici e è bellissimo perché ogni volta c'è un tema differente ecco il tema che ultimamente avete usato di più qual è l'ultimo di quest'ultima opera in particolare è l'inclusione come mai l'inclusione lo chiedo la nostra esperta con piacere allora l'inclusione perché la scuola cadorna si trova in una zona un po di confine scusami tu sei la dirigente sono la dirigente e appunto questo istituto comprensivo si trova nella zona san siro e quindi comprende famiglie e bambini di culture diverse e quindi il tema dell'inclusione serviva a noi per dare possibilità a tutti loro di esprimersi in quest'opera collettiva e quindi e quest'opera è stata proprio fatta per includere ciò che quelle che sono le loro passioni i loro interessi in un'unica in un'unica opera collettiva si notavano le differenze tra bambini provenienti dalle fasce più insomma deboli sì allora è stato interessante veder lavorare insieme delle signore musulmane delle signore italiane dei bambini di tutte insomma di varie nazionalità è stato molto 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 bello poter vedere che erano uniti da quest'unico disegno un unico grande disegno sul quale e poi magari scoprire che le passioni sono le stesse i desideri i sogni possono essere gli stessi condivisi condivisi quindi per noi è stata un'occasione ecco quindi in un quartiere di milano che è quello di san siro che molti conoscono se ne parla tanto però linda tu sono molti anni che proponi queste rote in giro per il mondo sì sì sono 23 anni di carriera e all'attivo sicuramente ho tanti musei importanti tre biennali già realizzate hai notato delle differenze in questi ultimi anni in quello che le persone disegnano fanno cosa dici sicuramente adesso c'è più esigenza di dipingere lavorare tutti assieme è molto più utile sicuramente oggi il lavoro di un artista performativo anche per quello che abbiamo vissuto tutti in questi ultimi due anni il fatto di poter stare all'aperto di nuovo fare delle cose tutti assieme bene allora invitiamo i bambini naturalmente che ci stanno osservando a seguire queste attività di linda della rota e magari a proporlo nelle scuole sarebbe molto bello in vista della fine dell'anno un bel parco andare lì e dipingere tutti insieme chissà cosa verrebbe fuori dopo la pandemia davvero un'apertura notevole che ci riempirebbe di gioia benissimo allora io ringrazio l'India Bindisi ringrazio Laura grazie beh ci vediamo presto ciao ciao